bello a tutti ragazzi lo xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di clash royale mancano pochissime ore alla conclusione della sfida 20 corone in clash royale e oggi voglio farvi vedere un deck molto semplice da utilizzare che alcuni giocatori hanno sfruttato per ottenere la vittoria numero 20 vittoria numero 20 che oltre a darvi 100.000 di gold vi darà anche l'emblema nel vostro profilo del giocatore per appunto aver fatto queste 20 win o grider valkyrie arciere pirotecnico scheletrini tronco tesla e fulmine sono le carte che vanno a comporre il deck che vi mostro oggi andiamo a vederlo direttamente nella sfida contro alexander dei zindelin capri subito cattivissimo con un cimitetro non capisco perché mi abbia voluto aprire sulla torre centrale forse vuole forse vuole ho già capito vuole perdere una partita vediamo se non mi va a counterare penso che sia quello che ho detto io ok 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 che si vede che è in 3 0 quindi ho in squadre mia ha perso due partite quindi non gli interessa giocarsi questa allora ce la portiamo a casa così morbida proprio senza problemi senza problemi andiamo 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 ringraziamo alexander e andiamo avanti intanto per la nostra strada questa ovviamente è una vittoria che non conta vabbè ce la portiamo a casa così proprio in the chilling mode in the chilling mode ringraziamo salutiamo ciao avanti 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 contro ai ai dei baha'i log apriamo subito con degli scheletrini o grider lui tira la princess orca miseria io personalmente lo vado a giocare adesso dove dove partire con un log adesso quasi c'è lo faccio vediamo sopra editato bene ok ci può stare secondo me c'è anche il il barile goblin andiamo 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 un quel valchirio il giocatore non l'ho capito qualche per difendere con gli scheletrini che aiutano abbiamo tenuto bene anche qua l'attacco 1964 è stato un attacco abbastanza violento 2330 la sua torre in alto a sinistra 1964 la mia in basso a sinistra se dovesse giocare la princess sul ponte sono pronto con il log ma non lo so eccola qua non voglio regalargli un rocket gratis dove tirarlo ancora adesso che pesantezza che pesantezza giocare un logo così niente fulmine direi sulla sulla torre inferno non c'è molto di aiuto voglio aspettare ancora un attimo prima di ok adesso potremmo riprovare a ripartire adesso vai 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 che ci siamo vai che ci siamo ok non devo portargli alla porta di di fulmine porca puttana difeso bravo 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 risulta difendere bene andiamo 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 e tiene duro tiene duro è un po più lungo questo bravo non mi ricordo quando toglie il fulmine quindi vado a sensazione dai dai non mi ricordavo quanto togliesse il fulmine 59 la sua torre oh my god 59 siamo contro mario vai mario ferma sto grider andiamo vai vai che sfortuna incredibile che sfortuna incredibile era troppo bello comunque era troppo bello se il fulmine fosse riuscito a fermare così comunque abbiamo il valchirione contro i suoi barbarozzi che riesce senza difficoltà ad andare a fermarne l'ingresso avanti ancora con la valchiria inviolate le torri di tutti una regina degli arcieri per lui andiamo a giocare proprio all'ultimo secondo l'arcieri pilotecnico non volevo dargli la falsa speranza di poter giocare la regina o grinder porca miseria serve che qua la torre mi aiuti arca via gli scheletrini subiamo e dobbiamo subire dobbiamo subire c'è poco da fare ottimo di nuovo la regina degli arcieri che utilizza l'abilità dell'invisibilità andiamo 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 porcaccia banana soriana banana ma è diventato più lento lo grinder sono io che che sto mi sto sbagliando bellissimo con l'arcieri pilotecnico che può fare un disastro 2063 1627 la mia torre vediamo se lui gioca degli scheletrini in maniera abbastanza ambigua non capisco perché li abbia giocati così quindi direi di ripartire dai 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 spirito del fuoco arciere pilotecnico andiamo con log vai 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 via la regina degli arcieri via 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 dobbiamo fermare o porca miseria mi serve la valchiria che deve subire tutti i danni ripartiamo intanto con log andiamo adesso andiamo adesso non riesce a tirare il tronco vai arciere chiudiamola chiudiamola arco giuda let's go ok ok andiamo a portarcela a casa e direi di buttarci in un altro game molto molto bene dai ci siamo un pochettino vendicati da quel 59 di prima pusitanoidecoco dello clan ma è lo stesso clan del tizio di prima porto con la tesla ok tesla che ci aiuta a fermare l'ingresso mi sembra che sia lo stesso clan bancherione per le guardiole di nuovo con la regina degli arcieri utilizzerò la sua abilità oh 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 piano qua sto un po' esagerando però qui gli ho regalato un attacco che potrei potrei pentirmene parecchio ottimo mamma mia quanto fa male la regina ragazzi mamma mia quanto fa male la regina con il con la sua abilità wow torre mia a 76 inviolate quasi le sue torri 2098 incredibile incredibile non voglio mollare vediamo di continuiamo semplicemente l'ograder col valchirione e poi ripartiamo con il pirotecnico ograder e spirito del fuego ho perso il mio spirito purtroppo guardiole 1 2 wait the log portiamo un attimino la possibilità da parte della torre centrale di fermare le guardie non sono questi i danni che mi interessa subire voglio stare attento perché secondo me potrebbe fare una combo ograder e un'altra carta è quello che dicevo andiamo vai 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 oh mi frega sempre con quel tronco 1 2 ok alla torre non mi ricordo quanto tocca questo fulminone 317 alla torre brava la valchiria qua che difende bene ottimo 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 non possiamo fare molto ma la nostra torre è solamente a 1382 non posso giocare così mi serve la valchiria adesso con l'og vai 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 og vai og vorrei utilizzarlo come arma finale il tronco mi ha preso la torre forza 1806 sto spingendo un po' troppo preparo la tesla mi dispiace io riparto non posso fermarmi vai 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 fulmine 853 non posso fermarmi ancora ripartiamo con logo ancora secondo me è andato un pochettino in tilt lui tiragli una hit dovrebbe bastare let's go che come back che come back oh my god ragazzi questo era il deck che io vi propongo per le ultime ore della sfida 20 corone spero che vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un pollicione in su iscrivetevi al canale raga aiutatemi a crescere noi ci vediamo col prossimo video di Clash Royale ciao 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 Grazie a tutti.